scrive e beh guarda che azione miglia della partita almeno spero portò 4 per la paura eh beh tiè tatàa' stagionno di fuoco pam bella per voi tutti insieme da votate me stronzi bravi prego cazzo duri mi mancavano chi è lo stronzo che non mi ha votato oh nerfa questo che cazzo ho fatto? ah questo ho fatto fuori uno fuori due fuori tre fuori quattro nerfa questo mecha attivate torno a combattere ahhh oh ah 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 azione migliore della partita come ah ah NERFA QUESTO NERFA QUESTO NERFA QUESTO ALLORA? 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 DELLA PARTITA Oh le so fa sempre che bello NERFA QUESTO BOOM E' particolare C'è di nuovo L'ho quattro volte Che fai dopo? Mezzogiorno di fuor Ti ho del mio Vieni Dio Vi